La comunità cattolica della mia croce vive molto esistamente la sua fede e vive per la medicina in particolare attuale che esprime sopra la funzione attraverso la rivoluzione delle notarie. Per il nostro carattere orientale non è difficile o bricosa, perché per il nostro carattere orientale si fa la dura contatto a mano di riflessione, ci riesce facile in oggi rimanere immessi nella meditazione dei misteri, inoltre noi ci stanciamo di ripetere sempre le stesse parole Ave Maria, Ave Maria, perché quando un cuore ama veramente, da ogni parola riveduta una nuova incertità di amore. Nel mese di marzo, negli ottobre, nelle parodotte la Madonna è odorata soprattutto con anche che mescarsi in Mariana, e non con il notario, perché il notario viene riscato di dolore per farmi più scattolica. Lo si va all'ecco senza la sua recitazione, così insieme. Il giorno del silenzamento, il ragazzo legava la colonna alla tua ragazza, tutte le donne scusate, ma portavano foglie. Il nostro notario è sempre una meditazione che ha già saputo, non specialmente per il nostro corpo o per il storismo e per le connessioni, ma per le connessioni, ma per le connessioni con un'altra cosa. Il nostro notario è molto molto molto. Il nostro notario è un'altra cosa che ha fatto, che ha fatto il nostro malice, che ha fatto il nostro malice, che ha fatto il nostro malice. non è un'altra cosa che ha fatto, che ha fatto il nostro malice, che ha fatto il nostro malice, che ha fatto il nostro malice. attraverso la rivoluzione del notario. Per il nostro notario non è difficile o noioso, perché per il nostro carattere orientale, in sua natura, a contatto con la nostra situazione, ci riesce facile e dolce rimanere immessi nella meditazione dei misteri. Inoltre, noi ci stanchiamo di ripetere sempre le stesse parole, Ave Maria, Ave Maria, perché, quando un cuore ama veramente, da ogni patola riveduta, una nuova intesa di amore. Nel mese di maggio, negli ottobre, delle pallocche, la Madonna è onorata soprattutto con canti e meditati in mariane, e non con un notario, perché il notario viene recitato in dolce, tutte le pallocche in cartonne. Non si va all'epoca, pensate a non recitare, non si insieme. Il giorno del fidanzamento, il ragazzo legava la colonna alla tua ragazza, tutte le donne scusate, ma portavano i pochi. Il loro donario, essendo un ammettino a peggio, mi ha già capito, ma specialmente per il nostro cuore, che il storico è di perdere i connessi, ma sono di desiderciare. di un ammettino a peggio, ma il padre è di un ammettino a peggio, ma è di un ammettino. Padre nostro, che sei in te, sia santificato dal tuo nome, venga nel tuo regno, che abbassa la tua volontà, tu vissero così in terra.